Da rivali a soci in affari, un controllo del territorio conteso da anni, poi la decisione di non scalpitare per non avere più rivali nel territorio della Piana del Sele, unendo le forze in affari per meglio quantificare i guadagni nel traffico di droga. È il quadro delineato dagli investigatori nell'operazione battezzata Alleanza che ha consentito di intercettare l'unione di due storici clan facenti capo a Pecora Rorenna e De Feo. Questa mattina a Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Ponte Cagnano Faiano, San Rufo, Torre Annunziata e Tre Case, i carabinieri della compagnia di Battipaglia, su delega della direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare personale messa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 17 indagati, di cui 14 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, tutti gravemente indiziati a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, di hashish, marijuana e cocaina, detenzione e porto illegale di armi e munizioni con le aggravanti del metodo mafioso e del fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa. La complessa attività di indagine va a concludere e definire l'operazione di polizia giudiziaria, si è detto stamani nel corso di una conferenza stampa in procura a Salerno, eseguita lo scorso 15 aprile dai carabinieri del nucleo investigativo di Salerno e dalla squadra mobile di Salerno, in occasione della quale fu data esecuzione ad una misura cautelare e messa a carico di 38 indagati per i reati di traffico di droga. L'attività investigativa che ha portato oggi all'arresto di 17 persone è stata svolta dai militari carabinieri del nucleo operativo e radio mobile di Battipaglia, in prosecuzione delle indagini Perseo e Omnia, le cui misure cautelari avevano permesso di arrestare i vertici del clan camorristico Pecora-Rorenna. Le indagini hanno permesso di accertare anche il coinvolgimento di alcuni indagati del rivale clan DeFeo, che risultavano in collegamento con esponenti del clan Pecora-Rorenna. E' stata infatti dimostrata l'esistenza di un accordo di non belligeranza, ha detto il procuratore vicario della Repubblica di Salerno, Luca Massini, fra i due clan cramorristici da sempre ostili fra loro. In particolare sono stati acquisiti elementi per ritenere che vi sia stata un'alleanza tra i membri dei clan, i cui rispettivi referenti attualmente detenuti sono ritenuti gemelli bisogni Sergio ed Enrico per il primo e i fratelli DeFeo Pasquale e Carmine per il secondo, da tempo pure detenuti e rappresentati dal fratello DeFeo Vita, già destinatario di una precedente misura cautelare. Sì, per noi è molto importante quello che oggi, intanto quello che si è concluso oggi con questa attività, ma che sicuramente questa attività verrà a portare ancora avanti, perché purtroppo il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, come sapete, è un fenomeno incessante che colpisce anche la nostra provincia. L'impegno dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale e nel particolare, in questo caso della compagnia di Battipaglia, è chiaro ed evidente, lo ha detto lei, ma credo che parlino assolutamente i fatti. È un impegno che comunque non si deve fermare, quindi la cosa particolare ritengo io che è molto importante è la continuità nell'attività investigativa che è stata svolta da parte dell'Arma dei Carabinieri che ha portato questi risultati, perché in effetti anche con quest'ultima attività si è colpito il livello superiore di queste organizzazioni criminali. Abbiamo trovato gli annelli di congiunzione, perché ci si è resi conto di come queste organizzazioni criminali, in passato contrapposte, pur di potersi spartire bene la torta, arrivano anche ad allearsi. Ovviamente sempre con gli interessi che rimangono ognuno per la propria bandiera, questo non c'è dubbio. La considerazione da fare è infatti proprio questa, che il territorio era ben conteso dai due clan, quindi questo significa che è un territorio particolarmente redditizio e che in questo momento si mettevano a rischio determinati meccanismi. Certo, la valutazione è stata sicuramente questa. Si sono resi conto che era molto più redditizio in qualche modo, tra virgolette, collaborare o spartirsi, tra virgolette, sempre pacificamente il territorio, piuttosto che essere partiti contrapposti. Quindi, di conseguenza, l'attività importante, come è stato detto, nel corso di questi anni è stata quella di non mollare mai l'osso, cioè di continuare a indagare e a investigare su questi clan senza pensare di aver vinto in effetti una battaglia, ma di continuare a condurre la guerra al traffico e alle spacce di sostanze soffrae facenti. Avevano gli stessi canali di approvvigionamento? Gli stessi canali sono sempre gli stessi, gli stessi contatti. E poi c'erano dei soggetti che erano annelli di congiunzione tra i due clan che sono stati colpiti da ordinanzi custodia cautelare.